In questo numero di AgriFood Magazine Cinghiali, danni all'agricoltura per 120 milioni di euro Allevamenti intensivi, in aumento l'uso di antibiotici Il mercato della carne sintetica vale 1,3 miliardi In calo il costo del concime Danni all'agricoltura per 120 milioni in 7 anni dalla fauna selvatica È la stima di Confagricoltura e dell'ente produttori selvaggina Secondo cui la non adeguata gestione di alcune specie Ha molteplici conseguenze, a partire dalla diffusione di malattie Che possono avere gravi effetti sulle attività economiche del settore primario Come recentemente accaduto con la peste suina africana in varie aree d'Italia Confagricoltura chiede di dare seguito con urgenza A quanto previsto nell'ultima legge di bilancio Rispetto alle misure di contenimento disposte E di implementare una strategia di intervento efficace Per ridurre la presenza di cinghiali Limitare i danni e abbassare il rischio di diffusione di malattie Per Confagricoltura è indispensabile rafforzare la formazione degli operatori Per assicurare efficacia e sicurezza degli interventi Le imprese agricole chiedono anche un adeguato riconoscimento Delle attività svolte a spese proprie per la gestione faunistica e venatoria A beneficio dell'intero sistema della biodiversità Oltre a una migliore valorizzazione della filiera alimentare Venatoria e naturalistica Con ricadute anche dal punto di vista turistico Nonostante gli sforzi per limitarne e controllarne l'uso L'utilizzo di antibiotici nell'allevamento animale Aumenterà dell'8% entro il 2030 Le previsioni, fatte incrociando i dati della World Organization for Animal Health Sull'utilizzo di antibiotici e quelli dell'ONU Sul numero di animali di allevamento Sono preoccupanti non solo per gli animali ma anche per l'uomo Secondo gli esperti, l'uso eccessivo di antibiotici negli animali È una delle principali cause dell'aumento negli esseri umani di infezioni batteriche Che non possono essere trattate con antibiotici Il 40% dei paesi valutato dai ricercatori Ha dichiarato di non utilizzare antibiotici per animali Mentre i dati dicono che nel 2020 nel mondo ne sono stati usati quasi 100.000 tonnellate Valore destinato a salire di altre decine di migliaia nei prossimi anni Sebbene la situazione peggiore si riscontri in aree extraeuropee Anche l'Europa mostra dei picchi piuttosto evidenti Tra cui quelli in Germania, Spagna e Nord Italia Infatti, secondo i dati del Piano Nazionale di Contrasto dell'antimicrobico Resistenza Presentati in uno studio del Policlinico Gemelli Il 50% degli antibiotici consumati in Italia è destinato al settore veterinario Da una parte l'aumento dei prodotti a base di insetti Che in Europa toccherà entro il 2030 260.000 tonnellate Per oltre 390 milioni di consumatori Dall'altra il mercato mondiale della carne in vitro Che ha già registrato investimenti pari a 1,3 miliardi Sono queste tra le più evidenti tendenze alimentari Inquadrate nell'alveo del Novel Food Dal report Nomisma per la nona conferenza economica di CIA agricoltori italiani Appena sdoganata dalla commissione UE L'immissione sul mercato di farina di grillo Si registrerà, secondo Nomisma, nel giro di poco tempo Un maggiore impiego di insetti come ingredienti nei prodotti alimentari Con una produzione UE in crescita di 180 volte A partire dal 2019 fino al 2025 Passando da 500 a 90.000 tonnellate Per arrivare a 260.000 nel 2030 Previsto da qui ai prossimi tre anni Un calo produttivo degli insetti interi di quasi il 15% Mentre saliranno in media anche del 5% Le vendite di pane, sostituti della carne e nutraceutici A base di polvere di insetti Il via libera dalla Food and Drug americana Alla carne di pollo prodotta in laboratorio Accende poi i riflettori sulle ambizioni in Europa in questo senso Con le aziende di riferimento a livello mondiale Tra laboratori e start-up Passate da 13 a 117 Dal 2016 al 2022 E la produzione globale di carne in vitro Che si prospetta al 2030 in aumento Fino a 2,1 milioni di tonnellate Con il crollo del prezzo del gas Torna ai livelli pre-guerra il costo dei concimi Con una riduzione del 40% rispetto al 2022 Salvando così le imminenti semine nelle campagne italiane È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti Sugli effetti del calo delle quotazioni del gas Una boccata di ossigeno per le aziende agricole Duramente colpite dal balzo dei costi di produzione Le difficoltà economiche infatti Avevano portato a ridurre l'acquisto di mezzi tecnici Indispensabili per le coltivazioni Già duramente colpite dal clima anomalo Con cali fino al meno 30% Proprio per l'uso dei concimi L'Italia importa il 70% circa di concimi minerali Azotati, fosfatici e potassio Con l'Egitto che da solo rappresenta Poco meno del 50% delle importazioni Seguito da Algeria, Libia, Turchia e Marocco Si tratta, afferma la Coldiretti Di un'inversione di tendenza importante Per i bilanci delle imprese agricole E per garantire la produttività delle coltivazioni Con la riduzione della dipendenza dall'estero A sostegno della sovranità alimentare del paese A sostegno della sovranità alimentare del paese A sostegno della sovranità alimentare del paese A sostegno della sovranità alimentare del paese